Ciao, mi chiamo Francesca Passoltano, ho 32 anni, sono di Torino ma mi sono appena trasferita a Roma. Mi sono diplomata alla Scuola d'Arte Drammatica Paolo Grassi di Milano nel 2012 e in questi anni ho lavorato principalmente nel teatro ma anche nel cinema e per degli spot pubblicitari. La mia best skill è sicuramente la danza e il movimento in generale come teatro danza ma per due differenti spettacoli ho anche imparato il waltzer e la gather dance. Sono anche insegnante di yoga, vado a cavallo, adoro gli animali in generale. Mi definisco una persona molto dinamica, infatti il mio motto è Sto lavorando duramente per preparare il mio prossimo errore, Bertolt Brecht. Questi sono i miei profili E grazie